C'è un importante aggiornamento per la regionale 8, approvazione definitiva del progetto Presidente. Allora quali sono i prossimi step? Beh sì, finalmente abbiamo centrato l'obiettivo rispetto al quale tanto abbiamo lavorato. Oggi il progetto è finalmente approvato, dopo il comitato via oggi abbiamo la chiusura di tutta la conferenza di servizi, quindi il provvedimento autorizzativo finale. Bene, oggi dobbiamo confrontarci di nuovo con la regione per il finanziamento e per poter appaltare. Però oggi veramente possiamo dire che un passo avanti importante è stato concretamente fatto.